Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Navara, questa è la Basilica di San Gaudenzio di cui oggi si festeggia ancora la festa e qua abbiamo il campanile dell'Alfieri con le otto campane in Sol 2 di cui la maggiore è rotta, suonano solo le sette minori, le campane sono stonate quindi non emettono un bel suono adesso dovrebbe suonare il richiamo che è il 2 mole 4, una campana che è in più nella cella e suonerà appunto per annunciare l'inizio della messa solenne che verrà celebrata dal vescovo emerito Monsignor Corti e adesso appunto aspettiamo tale suonata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti